bene amici di android blog.it siamo come sempre qui sulla nostra terrazza per provare la ripresa video in ultra hd del oneplus one come vedete siamo qui su un dettaglio della nostra pianta la messa a fuoco è piuttosto buona la qualità delle immagini anche proviamo anche un controsole e uno zoom vedete fino a 4 per come ormai è classico messa a fuoco piuttosto veloce e qualità della immagine non stabilizzata al 100 per cento ma direi comunque accettabile video in ultra hd quindi 4k con oneplus one